Buonasera a tutti. Stranamente per essere in un congresso di categoria, io mi riprometto di parlare poco dei nostri temi tipici del momento che la relazione del Segretario Generale ha con ampiezza, competenza e visione tracciato delle linee direttive in cui mi riconosco assolutamente e che credo ci consentano di guardare in maniera prospettica e in maniera chiara a quelli che sono i prossimi appuntamenti e le prossime scadenze. Mi soffermerò piuttosto su quella che è la situazione di contesto in cui, come mondo del lavoro e come categoria, dovremo vivere da qua ai prossimi 18-24 mesi, con due sole notazioni per quanto riguarda la nostra categoria e la relazione della Segreteria, che è relativa alla posizione concreta, pratica, che incontriamo nella nostra vita nelle aziende da parte dei nostri datori di lavoro che hanno ostentato qui un approccio ai problemi di tipo aperto, liberale, democratico, innovativo, che talvolta non si rispecchia in maniera altrettanto uguale in quella che è la vita concreta delle reazioni all'interno delle singole aziende. Ma è un po' come un po' la nostra vita concreta, nel giorno di festa, il bel vestito, il grande spolvero, la bea cravatta, è invece un'altra realtà nei giorni fediali, non è un problema. L'altra cosa è relativa al tema dei non performing loan, la cui gestione oltre alle aziende che sono state citate in redazione, in virtù di un recente accordo interno alla BNL, anche per quanto riguarda la nostra banca, pur nella dimensione certamente diversa che oggi a BNL rispetto al passato, è stata, diciamo così, portata in termini di internalizzazione. Venendo alla situazione di contesto, io sono lieto di ritrovarmi a questo congresso vivo e vegeto a quattro anni dal congresso di Bergamo del 2014, dove da lì in avanti vi è stato il tentativo ricordato con parole ben più efficaci delle mie, dal nostro segretario Barbagallo e dal segretario organizzativo Bombardieri, di eliminazione dei corpi intermedi da parte della strana coppia formata da Renzi, dal Giglio Magico e dalla Confindustria versione Squinzi, che puntava a togliere di mezzo appunto sindacato e corpi intermedi come inutili orpelli di una modernizzazione che a loro dire non avrebbe più avuto bisogno di questo tipo di impacci. Ebbene noi ci siamo ancora, siamo qua, intendiamo restare ancora a svolgere il nostro ruolo di rappresentanza, ma troviamo come eredità una profonda mutazione della situazione politica e il fatto che quella marea marrone che da Visegrad marcia verso Occidente dopo Vienna è arrivata anche a Roma. E quindi chiaramente, ecco, se con buona pace di chi voleva metterci in archivio, in archivio ci è finito lui, comunque l'eredità che ci è rimasta è non poco, non poco secondo me da monitorare perché i suoi sbocchi possono essere imprevedibili. Tornando alla nostra categoria, due sole cose e mi avvio la conclusione. Io sarò curioso di vedere, ma probabilmente non sarò più tra i vivi perché ormai qualche anno ce l'ho, come verrà trattata in sede storica la questione della riforma delle banche popolari. Ora ci hanno convinti che un numero stretto di figuri che si sono trovati al vertice di queste aziende nel momento in cui queste sono state travolte dagli eventi sono gli unici e sicuri responsabili di questa disfatta e di questa catastrofe che ha toccato colleghi, cittadini e risparmiatori. Io vorrò capire quando la polvere della politica si sarà posata, cosa si dirà nel merito, ma il nostro segretario generale l'ha detto con chiarezza a tempo debito, della riforma delle popolari, di come è stata concepita, di come è stata fatta, di come è stata posta in essere con un improvviso decreto legge, uno dei non molti decreti legge che hanno contenuto riforme strutturali che sia stato firmato da un Presidente della Repubblica supplente negli 15-20 giorni che precedeva un'elezione presidenziale. Vorrei sapere magari se il Senatore Grasso ha solo pensato i supremi destini della patria quando si è prestato alla firma di questo decreto. Vorrei anche vedere, capire e analizzare quelli che sono stati tutti gli altri provvedimenti di contorno che hanno messo le popolari in condizioni di fallire. Ricordo che le Landesbank tedesche e gli altri istituti regionali tedeschi sono stati per lunghissimo tempo al di fuori della vigilanza europea e tenuti dai loro governi fuori dal perimetro di controlli. Io mi auguro che anche su queste banche prima o poi il faro si illumini, nonché anche l'atteggiamento della Banca d'Italia che ha mantenuto negli anni costante una richiesta di riforma delle banche popolari. Salvo poi vedere che nel momento in cui la situazione di queste banche è stata messa sotto il faro europeo, la vigilanza della Banca europea non si è mostrata così pregnante. Ecco, quindi avviandomi alle conclusioni e pensando al fronte temporale che ci aspetta di qui alle elezioni europee, noi dovremmo come sindacato cercare di fare quello che la ha sempre fatto, cioè il ruolo di un sindacato che si confronta nel merito con chi detiene la gestione del potere esecutivo e che sulle cose concrete e sui provvedimenti concreti va a instaurare una dialettica e un confronto che se necessario dovrà anche essere fermo e deciso. Grazie.